mercoledì 8 febbraio buongiorno amiche buongiorno amici bianconeri ben trovati nuovamente qui sul canale e come sempre vi ringrazio per il seguito che state dando allo stesso il sostegno i tantissimi commenti non sono assolutamente riuscito a leggerli tutti come vi dicevo ieri vado di corsa e soprattutto non ho potuto vedere la partita salenitana juventus e quindi raccontarla qui sul canale perché ho impegnato nella sfida di recupero della victor san marino contro avevo rionamento detto il tropical coreano era il pietracuta derby vinto 1 a 0 dal victor san marino pertanto consolidata la prima posizione in classifica con quattro punti di vantaggio verso la promozione in serie di speriamo bene in bocca al lupo la victor san marino ma commentiamo quella che è quello che è il contenuto del video di quest'oggi santoriello sulle plus valenze e sul bilancio prima però mi raccomando continuate se già non lo siete iscrivete al mio canale youtube azionate la campagna notifica mettete like al contenuto in fondo a questa puntata se sarà stata di vostro gradimento prima di lanciare farvi ascoltare diciamo il secondo capitolo del quale vi voglio parlare sempre stralcio di un contenuto estrapolato da un convegno tenuto appunto dal pm ciro santoriello due parole veloci veloci sulla vittoria della juventus che risponde sul campo alle situazioni esterne con una prestazione mi dicono di assoluta efficacia è una prestazione che ha visto il ritorno al gol se non sbaglio dopo 115 giorni di dujan vlaovic uno su calcio di rigore e l'altro su azione e gol di filip costis una juve che parla il serbo una juve però che comincia a fare quei punti fondamentali per allontanarsi quanto più possibile dalla zona retrocessione quella zona retrocessione che potrebbe tornare a farsi pericolosamente in vicina nel momento in cui andremo a sviluppare e a capire a conoscere quello che è il secondo filone d'inchiesta relativo al differimento degli stipendi ma concentrandoci su ciò che invece è stato questa prima parte veniamo a breve al contenuto che vi faccio ascoltare ovviamente è uno stralcio poi commentiamo sia le parole di francesco calvo sia quelle appunto del pm ciro santoriello intanto la juventus vince sale a quota 26 punti in classifica e quindi decima posizione comincia diciamo così la sua rincorsa dopo la penalizzazione subita dalla sentenza un punto con una partita gogliardica e interessante fatto con l'atalanta poi la sconfitta con il monza interna e ora si torna a vincere in trasferta contro la saleritana con la speranza appunto che possa essere iniziata una nuova rincorsa un nuovo chiamiamolo campionato che ha perso di interesse inevitabilmente tante le polemiche ne abbiamo già detto e raccontato e quindi per chi come sottoscritto non ha visto la partita mi posso semplicemente fermare qui essendo contento del risultato conseguito con la speranza appunto che possa essere un inizio di continuità di risultati ma adesso vi lascio al contenuto di ciro santoriello ascoltate e poi commentiamo le plus valenze determinate dallo scambio di nella misura in cui in bilancio sta chiaramente scritto che la plus valenza è l'emergenza della vendita di ciro santoriello anni 55 80 105 chili alto un metro e 60 che si viene scambiato con michele plastino anni 13 e che e quindi a tutte e due abbiamo attribuito un valore di 100 milioni nella misura in cui ciò è chiaramente esternato in bilancio la circostanza che il bilancio non valga la carta su cui è scritto rende appunto il bilancio nullo annullabile quello che vi pare ma non lo rende un bilancio falso cioè nel senso di penalmente rilevante la portata ingannatoria di queste circostanze è pari a zero è un bilancio su cui di una società su cui non vale la pena investire ovviamente o da cui bisogna uscire immediatamente perché non è una società di reddivizia ma non è assolutamente un bilancio falso molto bene eccoci nuovamente qui insieme per commentare quello che è stato appunto il contenuto che ho diciamo montato insieme in questo in questo video sulle parole sulla relazione tenuta dal pm accusatore appunto della juventus ciro santoriello nell'indagine prisma pm della procura di torino che ha destato tantissimo scalpore con le sue dichiarazioni che vi ho lanciato ieri e che insieme al video che ho condiviso poc'anzi qui sul mio canale per il quale ringrazio l'amico colpo gobbo di avermeli forniti perché è grazie a lui se ho potuto dare un certo servizio e montarli insieme ai miei contenuti commentando quelle che sono le sue considerazioni fatte sulle plus valenze beh che dire considerato che la juventus non è stata condannata ci dicono per le plus valenze mi resta sempre il dubbio perché il sistema comunque che viene contestato alla juventus è sostanzialmente un sistema fatto di plus valenze pertanto che tu contabilizzi in una maniera piuttosto che in un'altra il valore di un calciatore che peraltro lo abbiamo detto più volte inutile tornarci sopra è di difficile determinazione lo dice lo stesso pm nella relazione che vi ho appunto appena fatto ascoltare e per le quali diciamo vanno ad inficiare un bilancio che eventualmente può essere un bilancio non sano di una società dalla quale è meglio eventualmente scappare ecco però parla chiaramente di un bilancio che non è un bilancio falso un bilancio falsato e allora ripeto siccome ci raccontano che la juventus non è stata condannata per le plus valenze ma per il sistema messi insieme che avrebbe alterato il bilancio e quindi avrebbe modificato il bilancio e per questo la juventus avrebbe subito una pena di non nove punti come chiesti dal procuratore federale della figici giuseppe chinè di nove punti bensì di 15 punti per volere della corte federale d'appello che appunto ha accettato la revoca del proscioglimento e ha condannato la juventus a questi meno 15 punti di penalizzazione ma il pm che ha condotto la parte accusa la fase accusatoria nei confronti della juventus ci viene raccontato che non trattasi sostanzialmente nonostante si parli di plus valenze di un bilancio che è nello fattispecie lui riferisce si riferisce alla juventus sta tenendo un convegno sulla juventus dove il tema principale fondamentale era la juventus appunto non parla di un bilancio falsificato o di un bilancio alterato in maniera fasulla e quindi illecita da parte di chi lo ha redatto voglio tra l'altro e quindi fare questa considerazione ma allora sostanzialmente se il pm che conduce la fase accusatoria si esprime in questi termini come si è arrivati invece a determinare sostanzialmente l'opposto ovvero che c'è un sistema messo in piedi dalla juventus e che quel bilancio è molto probabilmente è un bilancio falsato e al tempo stesso tornando un passo indietro alle parole che abbiamo ascoltato ieri nel video sempre del pm ciro santoriello dove si dichiara come tifoso tifoso del napoli come cittadino tifoso del napoli anzi tifosissimo del napoli e come pm assolutamente anti juventino e al quale è toccato in passato in altra circostanza archiviare il caso è toccato archiviare il caso per evidentemente insussistenza di prove sono frasi forti lo abbiamo commentato ieri e torno a risottolineare e appunto in quel caso è soltanto un pm colui che conduce diciamo la fase accusatoria non è giudice e in questo caso invece che conducendo la fase accusatoria sostiene che il bilancio appunto non è falsato che le plus valenze sostanzialmente alterano ma non possono essere considerate un reato come lo vogliamo considerare a ognuno ovviamente le proprie conclusioni la sensazione è che ci sia veramente tanto marcio dietro tutta questa situazione tanto di poco chiaro attorno alla sentenza che è andata a giudicare la juventus ma voglio anche leggere la risposta a juventus che ho invocato e che mi aspettavo e che continuo a auspicare ma evidentemente ci si è limitati la juventus sia limitata attraverso le parole di francesco calvo in questa maniera ieri nel corso delle pre match intervistato ai microfoni di da zone così francesco calvo si è espresso sentenza la società si è espressa dopo ogni passaggio giudiziario emettendo comunicati nei quali la sentenza viene ritenuta immotivata continueremo a difendersi nelle sedi opportune e quindi evidentemente non si sceglierà di fare alcun tipo di comunicato pesante nei confronti delle dichiarazioni uscite da quel video del 2019 del pm ciro santoriello sul quale appunto francesco calvo interviene e dice a precisa domanda video di santoriello permettetemi una riflessione alcune frasi estrapolate da certi contesti possono assumere valori diversi questo vale sia per la juventus che per tutte le persone coinvolte nell'indagine c'è però una cosa la juventus dà rispetto e lo pretende indietro molto bene credo che questa sia la linea soft scelta dalla società evidentemente che ha mandato davanti ai microfoni a parlare proprio anche di questa circostanza francesco calvo che si dichiara appunto in questa maniera molto leggera lascia alla juventus la possibilità di rispondere nelle sedi opportune evidenzia come stralci di intercettazione perché la leggo in questi termini la sua dichiarazione la sua risposta stralci di intercettazione vengono estrapolati e quindi decontestualizzati e possono assumere un significato diverso al tempo stesso anche le frasi delle pm possono essere intese in maniera diversa se estrapolate al contesto io credo che però ci sia un grande distinguo lo ribadisco un'intercettazione telefonica che non può essere una prova può eventualmente essere un indizio avviene tra persone in separata sede in privato le esternazioni di un pubblico ministero di un magistrato sono state fatte in un luogo consono all'esercizio della sua professione e vanno assolutamente contro l'etica professionale sono due cose che hanno un peso completamente diverso caro francesco calvo e al tempo stesso l'uscita dell'intervista all'avvocato chiappero che parla in termini vorrei anche dire entusiastici comunque molto positivi del pm ciro santoriello nonostante ciò che è uscito attraverso quel video beh mi fanno venire alla mente cattivi pensieri perché la non può mandare a difendere un popolo di 8 10 milioni di tifosi difenderla un popolo di 8 10 milioni di tifosi e pensare che basti questo per uscire pulita o indenne da ciò che le sta capitando quello che è il filone stipendi lo vedremo presto e molto probabilmente lì l'ho detto sarà tutta un'altra storia probabilmente lì potrebbe esserci qualcosa di più pericoloso rispetto a quello che invece è avvenuto oggi ma se non si lotta perché si faccia il tutto per tutto affinché quei 15 punti ci siano restituiti ma lo deve fare la società non lo debbono fare solo i tifosi di che cosa parliamo lo vedremo sono decisamente un po perplesso sulla tesi difensiva scelta dalla società auspicandomi che ciò che arriva di rimbalzo con un el can con un john el can particolarmente irritato per la situazione che si è venuta a sviluppare spero che corrisponda al vero al tempo stesso quando da certi giornali senza far nomi escono interviste come quella l'avvocato chiappero o informazioni che sostanzialmente sono anche controproducenti a mio modo di vedere della posizione della juventus qualche dubbio qualche tarlo mi sovviene lascio a voi ogni tipo di commento mi raccomando come sempre iscrivetevi al mio canale youtube a senata campanella mettete like a questo contenuto ci sentiamo presto come sempre fino alla fine forza juve ciao